I militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria e del Servizio Centrale Investigazioni Criminalità Organizzata con il coordinamento della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, direzione distrittuale antimafia diretta dal procuratore capo Giovanni Bombardieri, ha dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro di beni per un valore complessivo di circa 700 mila euro nei confronti di Giovanni Fiordaliso, già ingegnere e funzionario dell'ANAS, indiziato di aver agevolato l'infiltrazione nel settore degli appalti pubblici di cartelli imprenditoriali connotati da contiguità mafiosa a fronte di profitti ed utilità di vario genere ricevuti come contropartita. La figura di Fiordaliso era emersa tra l'altro nel corso delle operazioni cumbertazione e waterfront, svolte sempre dalla direzione distrittuale antimafia con il coordinamento della Procura della Repubblica. In tali contesti investigativi a Fiordaliso venivano contestati numerosi capi di imputazione connessi a reati contro la pubblica amministrazione, talvolta inseriti in un più ampio contesto associativo, susseguitesi senza soluzione di contiguità a partire dal 2012. In particolare Fiordaliso, nella veste all'epoca dei fatti di ingegnere e funzionario ANAS e direttori dei lavori e RUP nell'ambito di varie commesse pubbliche in materia, tra l'altro di ammodernamento e adeguamento di tratti autostradali della Salerno-Reggio Calabria, emergeva come tassello strumentale all'infiltrazione nel settore degli appalti pubblici di cartelli imprenditoriali connotati da contiguità mafiosa, ricevendo in campio incenti profitti e utilità di vario genere. Oggi arriva il sequestro da parte della sezione di misure di prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria, che ha disposto nei confronti del funzionario in rassegna la misura cautelare del sequestro, avendo d'oggetto il patrimonio illecitamente accumulato, costituito da due terreni, due fabbricati, un autoveicolo, tre orologi di pregio e rapporti finanziari. Grazie. Grazie.